Bentornati su MyFootballJersey. L'attendevo da tanto e finalmente è arrivata. Questa è la quarta maglia del Milan, questa volta in versione chiara, crema, color crema, e in versione player, quella indossata dai calciatori. Questa è la quarta maglia del Milan. La maglia è stupenda. La quarta maglia del Milan, secondo me, è un pezzo che dovete avere, ma tra quella scura e questa chiara, io preferisco questa. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Ottima vestibilità, ottima qualità. Tra l'altro continuo ad indossare una XL di questa Player di Puma, perché a me la Player di Puma sta veramente molto stretta. Il costo, lo vedete, molto basso e ottimo i tempi di spettazione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quale altre maglie vorreste vedere. Ora vi lascio la parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima!